Il padre non accetta la gravidanza della figlia. Il genero evade dai domiciliari e lo incontra. Un litigio poi finiscono alle mani fin quando non spunta un coltello. È accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Santa Margherita dove un giovane di 20 anni, A, D, A, queste le iniziali, già gli arresti domiciliari, si è incontrato con il padre della fidanzata in via Gerardo degli Angeli, una stradina di Palazzini a Schiera della zona di Pastena con il quale voleva chiarire della gravidanza della figlia. La colluttazione in strada. Le voci hanno rotto il silenzio del quartiere nel pomeriggio di ieri facendo scattare l'allarme al centralino del 113 e facendo subito giungere sul posto le auto della sezione volanti della questura di Salerno. Gli agenti di polizia hanno tempestivamente bloccato il ventenne autore delle lesioni gravi. Il giovane, già agli arresti domiciliari, che si era incontrato nelle pertinenze della propria abitazione evadendo la misura con il proprio suocero, aveva tentato di chiarire la sua relazione sentimentale sullo stato di attesa della giovane donna. L'incontro-confronto è degenerato fino ad arrivare all'accoltellamento da parte dell'uomo ai danni del suocero. In seguito ad una perquisizione a casa dell'accoltellatore, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato e sequestrato l'arma usata per infliggere le lesioni, nonché variegate dosi di droga, cocaina, eroina e l'occorrente per il confezionamento di dosi, per complessivi 17 grammi ed una pistola ad aria compressa a basso potenziale. L'accoltellato è stato ricoverato in ospedale per una ferita all'acero contusa al fianco, ma non corre pericolo di vita. Il giovane ventenne A.D.A. è stato arrestato in flagranza di reato per droga e lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È stato inoltre denunciato anche per evasione dagli arresti domiciliari. L'autorità giudiziaria ha disposto che l'arrestato fosse condotto ed associato al carcere in attesa del giudizio di convalida.